Nuovi intrighi nelle puntate spagnole di Una Vita, la sopa opera iberica che ha conquistato il cuore dei telespettatori di Canale 5 Tando alle ultime anticipazioni ufficiali, sappiamo che Carmen si confiderà con Lolita e Antoni Toin Merito ad una questione che le sta molto a cuore La donna sospetta che Ramon Palacios stia coprendo qualcuno, credendo fermamente nella sua innocenza Nonostante la paura di finire nei guai, il vedovo di Trini prenderà coraggio e deciderà di rimanere ad Acacias Cosa sta succedendo? Anticipazioni Una Vita Ramon e i sensi di colpa Il Palacios sa Tutto con estrema sofferenza, raccontare a Felipe la verità su Celia La donna tentò di rapire Milagros e si uccise dopo aver attentato anche alla vita di Ramon La rivelazione, Felipe sprofonderà nel vortice della disperazione e dell'alcol Come raccontano gli spoiler di Una Vita, l'avvocato si metterà in serie guai Ad aiutarlo sarà il Palacios, che si sentirà profondamente in colpa Nel frattempo, Bellita vorrà organizzare un incontro tra sua figlia e Ad Acacias continueranno ad arrivare altri personaggi, tra i quali un ragazzo che chiederà di vedere la bella Genoveva Ramon scoprirà con grande dolore da Liberto che la situazione economica di Felipe si sta complicando Cato nasconde un segreto del quale è a conoscenza solo il Palacios, di cosa si tratterà? Felipe vuole Cambiare nei prossimi appuntamenti di Una Vita, Carmen avvertirà Genoveva Un uomo la sta cercando con fare misterioso Samuel noterà l'ansia della sua nuova moglie e cercherà di capire che cosa gli stia nascondendo Nel frattempo, ad Acacias ci sarà spazio per una nuova storia d'amore Carmen e Ramon Si avvicineranno sempre di più e decideranno di continuare a vedersi Abilito per aver fatto preoccupare i suoi cari, Felipe si scuserà con Lucia, ringraziandola per avergli fatto aprire gli occhi Cato farà ammenda anche con Liberto Il vedovo di Trini, consapevole dell'affetto dei suoi amici, si farà a forza e prometterà a loro Di provare a dare una nuova direzione alla sua vita Finalmente, Felipe ha ricevuto un'offerta di lavoro Edovo sarà titubante, ancora scosso dagli ultimi avvenimenti, ma Liberto lo esorterà ad accettare senza remore Il primo, dopo una breve assenza, ritornerà ad Acacias e incontrerà Lucia che, intanto, sarà vessata dal marito Edoardo sarà furioso nel vedere la gioia della moglie e penserà a come distruggere il Martinez Chia si metterà nei guai, decidendo di vedere di nascosto l'ex religioso Ine, nelle puntate spagnole di Una Vita, Norberto e Cinta andranno a su un concerto da soli La cazza però, darà un sonoro schiaffo al suo accompagnatore Della scena sarà Jose, che resterà senza parole e che vorrà sapere che Si è successo tra i due La cazza però, darà un sonoro schiaffo al suo accompagnatore La cazza però, darà un sonoro schiaffo al suo accompagnatore La cazza però, darà un sonoro schiaffo al suo accompagnatore